Gli obiettivi del workshop sono quelli di mettere a confronto l'offerta di innovazione e la domanda di innovazione. In pratica cos'è che è disponibile da innovare nel settore e quali sono le tecnologie disponibili per il settore. E quindi è un confronto fra domanda e offerta e per favorire l'innovazione. In questa fiera agricola noi abbiamo organizzato tre seminari, due dedicati alla viticoltura. Il primo alla viticoltura di precisione, in particolare gli effetti sulla gestione del suolo e della fertilità. Il secondo sulla gestione della chioma, in particolare per gli effetti che può avere sulla sanità della pianta e sulla diffusione delle malattie del legno. Questo terzo è sulla meccanizzazione dell'olivo. Perché la meccanizzazione dell'olivo? Perché nel mese di giugno, e più precisamente il 17 e il 18 di giugno, organizziamo in Puglia, presso l'azienda Torrevento a Corato, in provincia di Bari, organizziamo Enovitis in campo, una dimostrazione di macchine in campo per la viticoltura in particolare, ma dove ci sarà una sessione, una parte espositiva dedicata in particolare alle macchine per l'olivicoltura. E quindi con questo incontro abbiamo voluto preparare la sessione dedicata all'olivicoltura della Puglia. Come sono strutturati questi workshop che organizziamo? Innanzitutto vengono esaminati i bisogni di innovazione e queste analisi dei bisogni dell'innovazione vengono affidate a dei relatori molto quotati, italiani o stranieri secondo i casi. Oggi l'introduzione ce la farà Marco Fedrizi del CREA. Dopodiché vengono proposte le soluzioni, le soluzioni individuate dalla ricerca, le soluzioni che vengono proposte dai fornitori di prodotti e servizi e infine le esperienze che le aziende vitivinicole e i consulenti del settore hanno verificato in campo e che quindi possono essere trasmesse anche ad altre aziende. Il workshop, ricordo, rimane vivo nel tempo perché le relazioni che vengono presentate verranno poi postate su dei siti internet e quindi possono essere riviste. In particolare depositeremo sia le slide che vedrete, sia le registrazioni del convegno sui nostri siti internet uiv.it, tergeo.it che è il progetto di innovazione e di sostenibilità di Unione Italiana Vini e infine, nuovissimo, il nuovo sito dove depositiamo tutte le registrazioni che si chiama uivmedia.it, cioè quindi www.uivmedia.it. Poi naturalmente ci sono gli articoli che vengono pubblicati sul Corriere Vinicolo, il settimanale di Unione Italiana Vini e su diversi altri siti collegati con noi. Questi workshop proseguono nel tempo perché in novembre abbiamo avuto i seminari ad Enovitis con un ampio programma di seminari che si è svolto nel mese di novembre. Qui siamo a Fiera Agricola in questo stand di Enovitis, poi avremo, vi ricordo, ancora Enovitis in Puglia e una serie di incontri che saranno programmati nel corso dell'anno e del quale daremo comunicazione con i nostri mezzi fino ad arrivare a Simei Enovitis che verrà ospitata a Drintec, Monaco di Baviera, quindi con una visione internazionale che si svolgerà dall'11 al 15 settembre del 2017. Bene, concludo questa mia introduzione con questo slogan, sostenibilità è la cosa giusta da fare in quanto in tutta questa innovazione e dobbiamo soprattutto guardare con attenzione alla sostenibilità del settore agricolo, sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale e naturalmente sostenibilità economica. Stiamo facendo impresa, non stiamo facendo poesia e quindi la sostenibilità deve dare dei risultati economici. Concludo ricordandovi due cose, l'incontro è organizzato in collaborazione con AIPO che poi faranno i loro interventi, le loro presentazioni e con CREA, è organizzato anche in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Agronomi di Verona e per chi avesse bisogno di crediti presso il banco della reception è possibile firmare per avere dei crediti e quindi ha il patrocinio di una serie di altri organismi, oltre che il CREA, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Agronomi, il CONAF, le società scientifiche che si occupano di agricoltura in Italia. Buongiorno, sono Marco Fedrizi, agronomo, ricercatore del CREA. Presento brevemente la nostra struttura. La legge di stabilità del 2015 ha disposto l'accorpamento del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, acronimo CREA, e l'Istituto Nazionale di Economia Agraria, acronimo INEA. Questo accorpamento ha dato vita al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, acronimo CREA. Il CREA è articolato in 12 centri di ricerca, con una distribuzione ampia sul territorio nazionale, per rispondere alle esigenze locali, ma nel contempo con una struttura più compatta rispetto a quella di provenienza, che agevola il coordinamento delle ricerche e rende più efficace ed efficiente la gestione dell'ente stesso. A seguito della riorganizzazione, il CREA è diventato il principale ente di ricerca italiano dedicato interamente all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali. Ha competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socio-economico, nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Operano nel CREA circa 1600 persone di ruolo, di cui quasi 600 ricercatori e tecnologi ed altrettanti tecnici. Il CREA dispone anche di una rete di aziende e terreni che consentono una sperimentazione in condizioni del tutto identiche a quelle in cui operano gli agricoltori e di validare i risultati delle ricerche, facilitandone la diffusione e la loro traduzione in innovazione. Il Centro di Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari, di cui fanno parte il sottoscritto e gli altri relatori di questo workshop, è articolato in tre sedi nel centro nord e dispone attualmente di 41 ricercatori, su un totale di 117 dipendenti. E' presente anche altro personale a tempo determinato di supporto alle attività di ricerca. Le competenze del Centro di Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari sono trasversali a tutte le filiere agroalimentari e comprendono anche, come potete vedere, specifici richiami al settore oleario di nostro interesse quest'oggi. I dati del sesto censimento dell'agricoltura italiana del 2010 evidenziano che in dieci anni il numero di aziende che coltivano olive si è ridotto del 18,8%. Riduzione però decisamente più modesta di quella riscontrata per l'insieme delle altre aziende arboree, per le aziende che coltivano seminativi e per i dati prati permanenti e pascoli. Cioè ha avuto questo settore una tenuta dal punto di vista del numero delle aziende operanti in questo settore. Nel contesto nazionale le aziende con la coltivazione di olivo presentano un'alta incidenza. Infatti nel 2010 queste rappresentano il 56% delle aziende agricole nazionali e costituiscono anche il 76% delle coltivazioni agrarie arboree. Tenete presente che all'incirca la produzione medio di olio di oliva in Italia è di circa 500.000 tonnellate annue. La superficie agricola nazionale investita d'oliveto in controtendenza rispetto alle altre coltivazioni ha registrato un piccolo ma comunque un 5% abbondante di incremento dal decennio precedente e del 9,6% rispetto al 1990. L'olivicoltura in Italia rappresenta di gran lungo la principale coltura arborea specializzata e realizza un fatturato annuo che ha un valore di circa 1,5 miliardi di euro. Nel territorio italiano l'olivicoltura è largamente presente nelle aree centro-meridionali. La Puglia è la regione con il maggior numero di aziende e la maggiore estensione di superficie ad olivo pari al 34% di quella nazionale, cioè un terzo della coltura dell'olivo si trova concentrata nella regione Puglia. Inoltre solo in Puglia sono localizzate più del 50% delle aziende che coltivano il 62% della superficie olivicola nazionale. Nella scelta della densità di impianto è necessario tenere conto dello sviluppo finale delle piante e del loro ritmo di accrescimento. Infatti la distanza di piantagione deve consentire a pieno sviluppo di avere chiome che possano catturare la massima quantità di energia radiante senza un ombreggiamento reciproco tra piante contigue. Se però il ritmo di accrescimento è lento e il periodo necessario perché le piante arrivino al completo sviluppo è lungo, sorge il problema della insufficiente utilizzazione dell'energia radiante nei primi periodi di crescita. Nella coltura intensiva si trova mediamente una densità di circa 400 piante ad ettaro. Nel modello superintensivo che dopo andrò ad illustrare questa densità di allevamento raggiunge e supera le 1700 piante ad ettaro, circa 4 volte la media della coltura intensiva. Negli impianti specializzati le piante vengono trapiantate secondo diverse disposizioni che sia pure con distanze diverse consentono il regolare sviluppo degli olivi. I tipi principali sono il quadrato, il rettangolo, il controsesto e la disposizione a quinconce. Il quinconce è la disposizione di 5 unità nel modo in cui è tipicamente raffigurato il numero 5 sulla faccia di un dado o su una carta da gioco. Il nome deriva dal vocabolo quinconce della monetazione latina. Questa foto ha illustrato un impianto di oliveto eseguito con distanze regolari mentre nelle colture estensive dove c'erano pochissime piante, 50-100 piante ad ettaro erano disposte in maniera un po' casuale e si trattava soprattutto di colture consociate erano frequentemente dei pascoli. Per quanto riguarda la conduzione moderna dell'oliveto le scelte culturali devono rispondere a requisiti di elevata produttività anche dal punto di vista qualitativo contenimento dei costi di coltivazione, basso impatto ambientale e riduzione dei rischi derivanti dall'esecuzione di pratiche agronomiche come per esempio il dilavamento in certi casi dovuto ad acque meteoriche a seguito di lavorazioni del terreno eseguite in periodi sbagliati e con tecniche sbagliate. La disposizione delle piante, la loro dimensione e la loro conformazione sono i principali fattori che nei vecchi impianti rendono tecnicamente difficile o impossibile l'integrale meccanizzazione delle operazioni colturali di tutto il ciclo produttivo. Un altro fattore critico per gli impianti con densità media o bassa consiste nella lentezza di entrata in produzione di queste piante. La fotografia evidenzia quale sia l'impegno di mano d'opera anche in riferimento alla sola predisposizione delle reti per la successiva fase di raccolta manuale o agevolata. Il modello culturale superintensivo è stato sviluppato per dare una risposta alle problematiche fin qui esposte. Necessita di condizioni di giacitura dei terreni molto favorevoli. La disposizione delle piante deve permettere l'impiego di macchine operatrici molto veloci riducendo al minimo i tempi di lavoro non produttivi quali ad esempio i tempi morti, i tempi per le voltate, i tempi di trasferimento da una pianta all'altra, eccetera. Un ulteriore contributo alla riduzione dei costi e alla difesa dell'ambiente è dato dalle tecniche dell'agricoltura di precisione. Nella cultura superintensiva non mancano alcune criticità. La maggior parte delle aziende olivicole italiane dispone di una superficie insufficiente per le esigenze di questo tipo di coltivazione. Gli investimenti inoltre sono rilevanti. L'irrigazione è necessaria durante tutti gli anni di durata dell'impianto. Un elevato livello di preparazione professionale del tecnico che segue l'azienda è indispensabile. Il ciclo culturale è breve, molto più breve del ciclo classico dell'olivo, circa 12-15 anni. Ma al riguardo, se si considera che l'esercizio dell'olivicoltura è un'attività imprenditoriale, risulta meno importante sapere quanto a lungo potrà vivere un oliveto, mentre è molto più rilevante sapere per quanti anni conviene che esso resti in produzione. Attualmente le varietà che si adattano a questo tipo di coltura superintensiva sono poche e non sono tra quelle della nostra tradizione e ciò determina una perdita di tipicità del nostro prodotto. Attualmente, come vedete, le varietà principali adatte al superintensivo sono soltanto due spagnole e una di origine greca. Ci sono altre varietà in fase di studio, alcune anche brevettate. Le caratteristiche del modello superintensivo si adattano molto bene all'applicazione delle più avanzate tecniche di agricoltura di precisione. In questo si può fare riferimento tanto alle operazioni di messa a dimora delle piante come della distribuzione geolocalizzata di concimi l'erogazione di trattamenti antiparassitari. Questo comporta ovviamente dei vantaggi dal punto di vista economico per l'utilizzo molto più efficiente di questi presidi e porta dei vantaggi anche dal punto di vista ambientale in quanto l'erogazione dei fitofarmaci viene localizzata in quantità mirate a piccolissime specifiche superfici. Naturalmente è necessario conoscere molto a fondo la condizione fitosanitaria del proprio vigneto ed impostare in maniera automatica l'erogazione della corretta quantità di fitofarmaco nelle zone in cui è necessario erogarlo. In base alle informazioni a livello di singola pianta relativa al fabbisogno idrico, alla fertilità e allo stato fitosanitario è possibile eseguire i necessari interventi programmando l'irrigazione e l'altro uso di fitofarmaci o fertilizzanti in maniera estremamente mirata ed anche automatica. Naturalmente sono tutte tecniche che hanno un certo costo per cui il riferimento alle grandi superfici fa rilievo soprattutto all'aspetto economico di gestione di queste macchine che da una parte sono estremamente specializzate e veloci ed hanno anche la caratteristica della polivalenza che contribuisce a ridurre i costi orari di esercizio di queste macchine per cui un'attrezzatura come ad esempio una vendemmiatrice che può essere impiegata per la raccolta nel superintensivo come vi spiegheranno poi i colleghi successivamente può essere anche organizzata e adattata al trattamento antiparassitario e con queste tecniche di agricoltura di precisione c'è una riduzione fortissima della quantità erogata fuori bersaglio e un'ottimizzazione della distribuzione del prodotto quindi viene distribuito meno prodotto e soprattutto viene distribuito là dove serve di più naturalmente a supporto di tutto questo serve una conoscenza estremamente puntuale del nostro liveto per cui come dicevo poc'anzi la preparazione del tecnico e l'informazione sono alla base delle possibilità di sviluppo di questo modello grazie ho il compito di parlarvi spero che mi sentite mi sentite ok con questo posso andare avanti no no non è quello è questo non è questo questo qua è il puntatore il puntatore ce l'è qua va beh non fa niente di un primo livello di meccanizzazione quindi quello fatto con le agevolatrici piccole macchine che servono per la raccolta e per la potatura e che sono il primo step dopo il lavoro manuale non ripeto questo che è stato già accennato all'inizio quindi degli aspetti generali sulla olivicoltura italiana e sulla meccanizzazione salterei anche questo che poi immagino conoscete bene cioè quali sono i fattori di debolezza della nostra olivicoltura e magari solo un inciso qui per dire appunto alcune delle questioni che poi ci più interessano da vicino per quanto riguarda la raccolta cioè difficoltà della raccolta l'olivo è una pianta che per esempio rispetto alla vite l'altra cultura agraria l'altra cultura arborea importante in Italia ha una a parte una complessa geometria della chioma ma questo sarebbe il minimo piuttosto ha una fascia di fruttificazione poco gestibile cioè fruttifica dovunque mentre invece noi con la vite come sapete bene possiamo con il tipo di allevamento possiamo decidere sostanzialmente dove la cultura andrà a fruttificare tra l'altro la trupa dell'olivo il frutto ha la più alta forza di distacco rispetto a parità di peso di tutti gli altri frutti più comunemente coltivati e questo quindi dà un'ulteriore problematica un lungo ciclo di produzione e evidentemente c'è difficoltà di riconvertire quelli che sono i vecchi impianti per adattarli magari a delle esigenze di meccanizzazione più innovativa anche perché poi i vecchi impianti spesso coincidono con quello che è il grande valore aggiunto di determinate situazioni olivicole che è il valore paesaggistico, culturale, storico che hanno certi paesaggi quindi è in realtà una cosa che dobbiamo difendere quindi sostanzialmente è per questo che la raccolta rappresenta il primo costo di produzione il sistema di raccolta si stabilisce in funzione di tanti fattori che sono tra di loro molto intercollegati che possono essere riassunti in questi aspetti quindi aspetti varietali quindi relativo al tipo di pianta che abbiamo di fronte e aspetti culturali quindi come viene allevata quindi il sistema di allevamento il sesso di impianto la dimensione delle piante il tipo di bottatura eccetera aspetti socio-economici molto importanti perché chiaramente incidono sulle scelte che andiamo a fare le dimensioni aziendali incidono la disponibilità di manodopera in particolare di manodopera specializzata questo è un grosso problema trovare manodopera nei periodi in cui serve in molti contesti e ovviamente la disponibilità di capitali infine quelli che ho raccolto come aspetti territoriali vedete qui sotto a destra sullo sfondo c'è un oliveto che sta praticamente in un terrazzamento quindi una situazione dove è difficilissimo meccanizzare ma dove l'importanza dell'oliveto è più che altro nella tenuta del territorio e nell'importanza paesaggistica quindi giacitura accessi e viabilità quindi se saltiamo per quanto riguarda i metodi di raccolta saltando chiaramente il metodo di raccolta dal suolo non perché non si faccia e che comunque anche lui prevede delle macchine eccetera ma sostanzialmente dà vita a un olio di scarsa qualità e quindi cerchiamo di superare questo metodo i metodi di raccolta sono i metodi di raccolta dalla pianta e oltre a quello manuale arriviamo a questo qui con intermedio con macchine agevolatrici poi gli altri colleghi vi diranno anche qualcosa su quelli che sono invece sistemi di meccanizzazione più avanzata e in termini generali queste agevolatrici presentano degli aspetti diciamo molto positivi che riguardano il loro costo la loro trasportabilità la versatilità quindi si adattano a diverse piante diciamo strutturate e elevate in modo diverso e sono adattabili appunto a queste piante versatilità vuol dire anche che sono per esempio è possibile con questi attrezzi sostituire appunto l'organo lavorante passare da un'asta agevolatrice con il pettine per esempio per la raccolta ad un'attrezzatura per la potatura e questo è molto interessante per quanto riguarda la produttività ho messo una faccina un po' intermedia perché? perché non è che poi facciamo questo balzo di produttività rispetto alla raccolta manuale si aumenta di 3-5 volte al massimo a seconda delle situazioni però questo è interessante in molte situazioni la qualità del prodotto si mantiene abbastanza bene al di là del fatto che ci potrebbero essere dei danneggiamenti dati per esempio dall'uso dei pettini quindi dal fatto che la bacchiatura praticamente dell'olivo può colpire la trupa e quindi creare piccoli problemi di questo tipo ma voi come sapete lì la cosa importante è la velocità con cui poi viene portata l'olivo al frantoio piuttosto che il tipo proprio vero di raccolta e poi ho lasciato ancora un po' una cosa intermedia sulla sicurezza perché nel senso che abbiamo un grosso diciamo guadagno sulla sicurezza del lavoro in quanto con queste macchine noi dobbiamo avere come obiettivo quello dell'eliminazione dell'uso delle scale quindi lavorare sempre da terra quindi l'eliminazione dell'uso delle scale è un grosso passo avanti sulla sicurezza in olivicoltura ci sono molti incidenti dovuti alle cadute però nello stesso tempo vedete la faccina quella ultima molto più triste perché su queste macchine c'è ancora un po' di problematica riguardo problemi riguardo all'ergonomia quindi all'affaticamento dovute al loro uso più che altro per le vibrazioni poi vediamo qualche dato e chiaramente c'è un limite ovvio che è quello della dimensione delle piante perché più di chiome più alte di 4 metri e mezzo 5 metri non possiamo raggiungerle come le scegliamo queste macchine ho segnato i principali criteri di scelta quindi in funzione della loro versatilità in funzione della loro ergonomia in funzione dell'impatto ambientale che vuol dire poi in realtà il discorso della sostenibilità che diceva il dottor Rizzotti cioè impatto ambientale quindi possibilmente ridurre le emissioni dei consumi ma questo sostanzialmente si risolve in una diminuzione dei costi è chiaro che probabilmente il costo iniziale è un po' maggiore ma questo va ammortizzato nel fatto che a funzione del sistema di alimentazione dell'attrezzatura noi avremo meno consumi la qualità del prodotto va tenuta d'occhio e la produttività l'ho lasciata per ultimo perché in linea di massimo queste agevolatrici pur avendo soluzioni diverse portano a quel vantaggio rispetto alla raccolta manuale intorno a questi 3-5 volte non è molto diverso da macchina a macchina possiamo quindi scegliere un tipo di azionamento pneumatico elettrico o col motore a scoppio possiamo scegliere un tipo di organo lavorante che è quello che vedete nella prossima dispositiva possiamo avere delle scuotitrici che sono dei ganci che si attaccano ai rami alle branche e quindi scuotono inducono delle vibrazioni e l'oliva cade delle bacchiatrici che quindi funzionano con dei pettini che vibrano colpiscono le piante le drupe i rametti e fanno cadere chiaramente il prodotto e delle brucatrici che sono leggermente ne ha saltata una leggermente diverse assomigliano più proprio al lavoro che fanno le dita di un uomo cioè quindi catturano sono forse quelle un pochino meno produttive catturano la trupa e la distaccano alimentazione come vi dicevo motore a scoppio pneumatici ed elettrici la cosa interessante se proprio dobbiamo segnalare un'evoluzione nel settore è proprio l'aspetto dell'alimentazione a batteria dell'alimentazione elettrica perché negli ultimi anni questo è un settore che si sta evolvendo con una certa velocità non è così dinamico come altri diciamo altri settori tipo quelli legati sostanzialmente all'elettronica o all'informatica anche va detto anzi a questo proposito che uno dei motivi per cui l'alimentazione elettrica è migliorata è non solo per le prestazioni delle batterie che vedete nella tabella ma anche perché queste batterie sono dotate poi di tutta un'elettronica che ne consentono il caricamento l'utilizzazione ottimale eccetera quindi diciamo con loro si è evoluto il tipo di controllo elettronico che adesso è associato in particolare adesso si usano le ultime della tabella batterie a ioni di litio o polimeri e litio che sono sicuramente le batterie più energetiche diciamo quelle più potenti che hanno un veloce tempo di ricarica una veloce ricarica e che chiaramente ho questo qui diciamo a parità di peso e tra l'altro le ultimi tipi di batterie appunto quelle che adesso alimentano le attrezzature insomma più moderne hanno superato quel problema che avevano le vecchie batterie della della memoria cioè dell'effetto memoria quindi che batterie che devono essere scaricate completamente ricaricate altrimenti si perdeva la loro efficienza l'unico forse svantaggio che può avere pure in termini pratici delle conseguenze è il fatto che queste batterie hanno una loro cosiddetta shelf life cioè tendono a perdere di efficienza durante gli anni anche se non sono utilizzate questo diciamo dal punto di vista di comprare un'attrezzatura nuova può avere solo un'indicazione cioè stare attenti che il rivenditore ci dia effettivamente non uno scarto di magazzino che ha avuto dagli anni precedenti ma che sia una cosa appena messa in commercio però è un effetto appunto abbastanza secondario e tra l'altro l'ultimo inciso sul discorso dell'alimentazione elettrica è quella che c'è qualcuno che lavora diciamo dietro le quinte per noi che sono le case automobilistiche perché su questo settore dell'alimentazione elettrica come sapete si stanno facendo investimenti pazzeschi già si parla per esempio di ioni di litio e no scusate di ioni litio aria sono batterie nuovissime che potrebbero ancora avere prestazioni maggiori vi dicevo la produttività noi qualche anno fa abbiamo fatto delle prove confrontando una serie di scuotitori e una serie di pettini con delle piante e come vedete se vi fermate sulla produttività oraria di raccolta la media dei pettini la media degli scuotitori su quel tipo di piante che in realtà non erano molto produttive è abbastanza simile quindi forse di volta in volta decidere tra uno scuotitore e un pettine va un po' visto è interessante notare ma questo ve lo dirà molto bene poi Giulio dopo di me cioè il fatto che la produttività deve essere sempre intesa considerando anche la produttività del cantiere quindi anche la stesura dei teli e la raccolta delle olive infatti passando dalla sola raccolta alla produttività oraria totale è il 50% in meno evidentemente e la cosa che abbiamo fatto durante quell'indagine è stata quella di vedere quanto erano onesti i produttori cioè abbiamo confrontato i nostri dati presi in quella situazione con le produttività dichiarate dai costruttori e questa potrebbe essere un'indicazione utile in una fiera voi chiedete al produttore quanto raccoglie eccetera e devo dire che secondo me sono buoni i dati sono stati molto onesti a parte i primi tre che vedete chiaramente c'è forse il numero tre in particolare ma i primi tre c'è un motivo insomma al loro vantaggio erano i tre scuotitori e quindi lo scuotitore risente un po' di più del pettine del fatto che le piante su cui noi abbiamo fatto le prove come vi dicevo prima erano poco produttive era un anno di scarica quindi non hanno prodotto molto lo scuotitore per forza di cose deve agganciare su diversi punti sempre su numerosi punti sempre gli stessi e non può diciamo averci una una raccolta più versatile come quella che fa con il pettine che gira intorno alla chioma a seconda di dove vedi le olive e quindi loro sono stati un po' penalizzati dalla nostra prova però devo dire che nel complesso sono contento insomma di questo non hanno sparato insomma ecco un inciso breve sul fatto dei tagli di raccolta esistono delle soluzioni interessanti per velocizzare l'apertura la chiusura e lo scarico come quella che vedete nella foto a sinistra che è un un ombrello che si apre velocemente automaticamente portato da un carrellino o manuale o come in quel caso motorizzato dove c'è anche la possibilità di mettere la cassetta per la raccolta quindi questo chiaramente l'operatore che deve fare la raccolta con l'assa agevolatrice ha la possibilità di aprire un angolo di questo ombrello per infilarsi oppure di spingerlo perché è un po' elastico quindi può arrivare alla chioma e raccogliere oppure quella lì che è dell'università di quella in basso che è dell'università di Firenze dove ci sono delle attrezzature collegate a piccole macchine cingolate che sono adatte anche ad altri lavori e che appunto in questo caso hanno un ombrello di quel tipo con l'apertura e chiusura automatiche vi dicevo ho due informazioni su quella che è l'ergonomia quindi rumore e vibrazione di queste macchine per il rumore non ci sono particolari problemi al di là chiaramente delle macchine che sono alimentate da motori a scoppio quindi il motore di un 10 spugliatore sostanzialmente in questo caso questa è la nostra prova di qualche anno fa era un confronto fra 5 cioè era un confronto fra 5 macchine elettriche in più abbiamo aggiunto in fondo la numero 6 è una macchina azionata da un motoro a scoppio evidentemente in quel caso il rumore è molto alto come nell'uso di una motosega o di un giro di un spugliatore quindi vanno prese tutte le misure del caso quindi protezione delle orecchie eccetera eccetera per gli altri casi vediamo che i livelli di rumore non sono preoccupanti forse la 5 potrebbe indurre una prima azione questo è un altro lavoro invece di letteratura sempre un confronto fra pneumatiche e delle macchine pneumatiche ed elettriche le ultime sono le pneumatiche le ultime tre un pochino più rumorose ma nel caso dell'uso di un registro pneumatica è molto importante per il rumore dove piazziamo il compressore che le alimenta basta allontanarlo un pochino e siamo sempre in ambiti di rumore non preoccupanti quello che è un pochino più preoccupante è il discorso le vibrazioni sono macchine che sono attrezzature che sono portate già in una posizione scomoda poi inevitabilmente trasmettono le vibrazioni e qui insomma i dati che abbiamo trovato in letteratura sono sia questo di un lavoro su un informatore agrario sia quest'altro un altro lavoro su una rivista italiana scientifica e sono appunto valori che devono indurre un po' di preoccupazione lì bisogna organizzarsi bisogna frequentemente cambiare il lavoro non si può lasciare un operatore raccoglie sempre lui deve alternarsi con quello che raccoglie i teli e così via quindi è un per noi diciamo che siamo ricercatori che ci occupiamo anche un po' dello sviluppo di queste macchine io direi che questo qui potrebbe essere un obiettivo insomma da darci di cercare di fare qualcosa rispetto a questo tra l'altro ci sono delle cose che vanno anche un po' contro di noi perché per esempio hanno fatto delle asse adesso di carbonio molto leggere quindi ottimo la leggerezza per l'affaticamento delle spalle ma magari non è tanto buono questo per la trasmissione delle vibrazioni perché sono più rigide quindi trasmettono più vibrazioni le stesse attrezzature appunto la versatilità possono essere dotate opportunamente cambiando l'attrezzo di lavoro con per esempio delle forbici quindi una batteria può alimentare o un compressore può alimentare delle forbici per la potatura questa qui in basso a destra anche un piccolo serbatoio di un disinfettante che disinfetta la ferita nel momento in cui stiamo facendo il taglio oppure tutti gli altri accessori per la potatura quindi seghetti a catena gli svettatoi seghetti ha diciamo alternativi e lì addirittura una motosega elettrica quindi già potenze importanti anche se la motosega normalmente per la potatura non ci serve come produttività avevamo fatto un confronto fra un'alimentazione elettrica e una scoppio e i risultati sono uguali perché hanno lo stesso organo di taglio hanno un seghetto a catena tutti e due quindi non ci sono differenze nel caso della potatura possono essere utili attrezzature diciamo di contorno come per esempio queste piattaforme elevatrici piccoline abbastanza alcune anche di queste alimentate con delle alimentazioni elettriche e così via buongiorno a tutti sono Pietro Toscano ricercatore del Crea Inge BG per come ancora viene denominato lavoro dallo scorso giugno al laboratorio di ingegneria agraria di Treviglio ma vengo da oltre un ventennio di attività di ricerca presso quello che è stato il centro di ricerca per l'olivicoltura e l'industria olearia di Rende Cosenza mi sono occupato di appunto olivicoltura per quello che riguarda l'aspetto agromeccanico e delle tecniche culturali e per quello che riguarda l'argomento di oggi del seminario di oggi appunto la meccanizzazione della raccolta dell'olivicoltura ovviamente da reddito è una cosa di cui bisogna essere molto ben coscienti il fatto che se si investe in meccanizzazione lo si fa perché si sta lavorando su una cultura industriale o quantomeno assimilabile ad essa quindi mi permetto solo di integrare un attimo quello che aveva detto prima Marcello cioè il fatto che l'olivo fruttifichi ovunque va bene se lo si lascia allo stato di fatto l'olivo deve fruttificare dove a noi interessa che fruttifichi e quindi nelle forme di allevamento le potature di produzione successive a quelle di allevamento anche se è una distinzione più che altro accademica devono essere mirate appunto a che l'olivo fruttifichi dove si ha una maggiore efficienza nella gestione delle diverse pratiche culturali la raccolta in primo luogo ma anche le concimazioni i trattamenti fitosanitari e quant'altro il fatto che ci siano delle tipologie olivicole estremamente diversificate non tanto in Puglia dove il collega ha giustamente ricordato che c'è il 30% della produzione olivicola nazionale ma devo aggiungere che un altro 30% della produzione olivicola nazionale si trova in Calabria a differenza della Puglia però la Calabria ha per condizioni pedoclimatiche o coreografiche molto diverse e a distanze anche molto ravvicinate l'una dall'altra delle tipologie olivicole che praticamente raccolgono tutto quello che è il panorama delle o diverse olivicolture si va dall'olivicoltura litoranea a quella pedemontana con tipologie olivicole che spaziano appunto dagli olivetti secolari obsoleti marginali fino a realtà di intensivizzazione abbastanza spinta stiamo parlando chiaramente di olivicoltura specializzata senza arrivare ai modelli super intensivi spagnoli chiamiamoli con il loro nome che ovviamente per diverse considerazioni possono avere delle collocazioni che non permettetemi un giudizio molto personale non attengono a quella che è la natura dell'olivicoltura italiana ma non entriamo in questo genere di discorsi parliamo piuttosto di come poter meccanizzare le diverse tipologie olivicole questo anche in funzione di quelle che possono essere le imprenditorialità che gestiscono queste tipologie olivicole si può passare nel momento in cui si ha necessità comunque di ricorrere ancora alla mano d'opera quindi alla raccolta meccanizzata si può ricorrere a un primo livello di meccanizzazione che riguarda l'utilizzo e l'impiego di piattaforme agevolatrici che consentono di portare l'operatore quanto più vicino possibile alla parete produttiva o alla zona in cui l'olivo fruttifica questa in particolare come vedete è dotata di sacco di raccolta per cui si agevola di molto non solo l'operazione di stacco ma anche la captazione del prodotto che quindi non deve essere poi movimentato diversamente una volta pieno il sacco lo si scarica direttamente in bins o in rimorchi nel momento in cui la mano d'opera comincia a essere un problema per quello che riguarda la disponibilità o i costi o l'efficienza si passa a macchine un po' più articolate questo è di fatto un enorme pettine montato su un braccio idraulico chiaramente svolge su piante poco raggiungibili da parte di un operatore umano può riuscire a recuperare il prodotto da piante come vedete in questo caso secolari anche poco strutturate è chiaro che però c'è un aspetto che potrebbe essere negativo che è quello appunto del fatto che una macchina del genere richiede un operatore estremamente abile perché è molto facile fare dei grandanni con un attrezzo del genere è comunque una macchina che ha bisogno del cantiere reti accessorio ovviamente questa è una macchina che provoca il distacco delle drupe le lascia cadere al suolo c'è bisogno del cantiere reti per la movimentazione del prodotto su olivicolture più intensive più specializzate chiaramente si comincia a pensare a una meccanizzazione con l'utilizzo di scuotitori scuotitori sono macchine vibranti testate che hanno al loro interno delle masse centriche messe in rotazione da appunto prese di forze o motori idraulici che generano delle vibrazioni di varia natura che trasmesse al tronco alle branche fino alle branche fruttifere provocano appunto il distacco delle drupe e si va qui c'è una vastissima possibilità di scelta della tipologia di scuotitore si va da quelli più semplici come vedete senza nessun tipo di articolazione che però su piante ben strutturate come potete vedere funzionano benissimo riescono ad avere delle ottime rese di raccolta fino a passare dalle piccole testate vibranti che possono essere utilizzate come accessori per diverse macchine che possono essere anche dei piccoli movimentatori chiaramente utilizzabili anche per altre attività oppure come in questo caso una macchina che ho avuto la possibilità di seguire nel suo escursus di progettazione fase di test e quindi poi produzione industriale che qui la vedete in due forme diverse differiscono appunto per il sistema di presa a destra con due dita basculanti a sinistra il modello più recente con tre punti di appoggio vedremo tra un attimo in particolare che può essere montata e chiaramente adattata ad un braccio idraulico ma può essere montata anteriormente o posteriormente di una normale trattrice agricola e siamo riusciti a portarla anche in situazioni pressoché impossibili chiaramente queste sono piante non strutturate che di fatto non venivano raccolte e questa era un'ipotesi di utilizzo di macchine scuotitrici appunto per quelle piante altrimenti non raccoglibili in funzione di una prospettiva di ristrutturazione delle stesse funzionale appunto al miglioramento delle rese di raccolta e una macchina che nella edizione del 2011 dell'Agri Levante ha comunque ricevuto una menzione di novità tecnica per il tipo non solo di presa ma anche per il tipo di trasmissione di vibrazione in pratica ha quattro marce due in avanti e due indietro a diversa velocità e intensità di vibrazione non entro nel dettaglio passando avanti in quello che è il panorama delle macchine scuotitrici per l'olivo chiaramente non solo stiamo parlando dell'olivo si arriva poi alle testate vibranti più grandi più pesanti per macchine di elevata potenza che vengono utilizzate ancora adesso per le piante chiaramente secolari ma recentemente anche queste vengono un po' di smesse a queste vengono preferite vengono preferite comunque le piccole testate vibranti montate magari come vedete in questo caso su dei movimentatori telescopici per poter essere portate quanto più in alto e più vicino possibile alla fascia alla chioma produttiva e quindi evitare l'impiego di quelle macchine così pesanti che tra l'altro possono avere diversi problemi di gestione di manutenzione e possono anche fare dei danni alle piante quando non correttamente utilizzate sono queste tutte macchine che hanno delle ottime capacità di lavoro chiaramente su piante ben strutturate chiaramente con operatori ben addestrati con cantieri efficienti di questo ne parlerà poi il collega sono tutte macchine che hanno se vogliamo un difetto di fondo che è quello di necessitare comunque del cantiere reti l'elevata efficienza teorica potenziale di una macchina scuotitrice viene tante volte inficiata dal fatto che c'è bisogno di stendere delle reti sotto le piante spostare il prodotto svuotare le reti riposizionare le reti per cui uno scuotitore ha bisogno di 6-8 persone addette alla movimentazione delle reti per poter mantenere un livello di efficienza adeguato il passo successivo a questo punto qual è? dovendo ricorrere alla raccolta meccanica quindi l'utilizzo di testate vibranti e di scuotitori vedere di eliminare il cantiere reti come lo si fa utilizzando non riesco a mirare io o so scariche le batterie utilizzando delle macchine o accessori di macchine in pratica degli ombrelli rovesci questi teli li aveva già fatti vedere il collega prima sono appunto dei teli che si possono aprire e chiudere con un movimento idraulico e avvolgono la pianta chiaramente ci sono varie misure di questi teli e sono adatte adattabili a diverse tipologie di piante in questo caso come vedete sono integrate in un cassone di raccolta e in uno scuotitore il tutto comprende una macchina che può essere usata come accessorio cioè non è una macchina singola è un accessorio che in questo caso viene collegata ad un bobcat ma può essere collegata a qualsiasi altra coppia di bracci idraulici di queste macchine chiaramente ci sono anche delle versioni semoventi che funzionano però tutte sullo stesso principio è chiaro che in questo modo si riesce a evitare e eliminare il cantiere reti e un unico operatore può effettuare il distacco la captazione la raccolta e la movimentazione del prodotto che quindi viene allontanato dal campo l'investimento iniziale e la relativa minore efficienza della macchina è assolutamente compensata da quella che è il risparmio o meglio la non necessità di dividere il prodotto per il numero degli addetti di fatto c'è una sola persona diciamo due che riescono ad effettuare l'operazione che altrimenti richiederebbe 7-8-10 persone ovviamente l'utilizzo di queste macchine come vedete può essere adattato anche a piante grandi e anche a piante secolari quando solo si intervenga con adeguate potature di ristrutturazione funzionale alla macchina che deve essere usata perché sono macchine che hanno una loro versatilità indubbiamente ma è chiaro che anche la pianta deve essere adattata adeguata alla macchina e lo vedremo molto velocemente subito perché il passo successivo della meccanizzazione della raccolta è la raccolta in continuo raccolta in continuo che è nata sulla base del modello superintensivo spagnolo 1200-1800 pianta etero praticamente un vigneto che viene raccolto appunto con delle vendemmiatrici macchine che vengono utilizzate anche per la potatura e per i trattamenti fitosanitari quindi è possibile gestire integralmente un oliveto così fatto però come già è stato ricordato prima questo lo si può fare qua praticamente solo in Puglia magari nella pianura padana fra qualche anno quando il cambiamento climatico sposterà la zona di coltivazione dell'olivo ancora più verso nord ma è in Puglia che questo viene effettuato dove appunto ci sono estensioni capaci di poter dare di poter permettersi questo modello coltulare la nostra olivicoltura è diversa non è possibile applicarla alla nostra olivicoltura come si fa? Si usano macchine pettinatrici bacchiatrici in continuo che lavorano a parete anziché a scavallare qui ne vedete un modello a pettine un altro modello che è trenato è un sistema double system che abbiamo avuto la possibilità di testare ma ha bisogno di molta molta professionalità e pratica per poter essere utilizzato al meglio fino ad arrivare a delle macchine integrali dedicate appunto alla raccolta in continuo ma come vedete bene in questo caso c'è bisogno di un secondo operatore che gestisca gli apparati di bacchiatura nel panorama almeno per quanto mi è dato di sapere nel panorama delle bacchiatrici continuo c'è questa ditta che invece ha prodotto negli anni passati e qui la vedete in lavorare in Argentina questo tipo di macchina che ha un sistema di tastatore per cui segue naturalmente la chioma degli olivi ha un'efficacia di raccolta eccezionale non provoca dei danni e abbiamo avuto negli anni scorsi la possibilità di provarne un prototipo con il professor Guarella dell'università di Bari che vedete lì sul retro della macchina nell'azienda di Mirto Crozia Buongiorno a tutti io sono Giulio Sperandio sono un ricercatore sempre del Crea un po' più vicino del Crea Inge l'intervento è aspetti economici dell'operazione di raccolta è strutturato un pochettino una parte generale per quanto riguarda un po' le criticità e le opportunità dell'olivicoltura ma i colleghi ne hanno già parlato ampiamente e poi per andare sullo specifico diciamo a fare una valutazione una simulazione dei costi di raccolta in funzione diciamo del diverso livello di meccanizzazione e quindi arrivare un po' a un confronto finale con alcune simulazioni per vedere anche l'incidenza in termini di costo unitario sul chilogrammo di olio prodotto e di olive e vado velocemente gli aspetti generali sono stati già in gran parte diciamo esposti dai colleghi ma io volevo puntare tanto l'attenzione sul discorso della polverizzazione delle aziende olivicole noi abbiamo una media di 1,25 ettari per azienda e questo è sicuramente un ostacolo per diciamo uno sviluppo corretto della meccanizzazione per non parlare poi ovviamente della competizione nei costi di produzione i nostri sono molto elevati rispetto alla competizione estera e quindi insomma di problemi ce ne sono c'è anche delle opportunità dovute alla meccanizzazione il mercato adesso è ricco di macchine e attrezzature per cui possiamo usufruirne per poter agire su un discorso economico e di sostenibilità della gestione dell'oliveto per ricordare semplicemente è già stato detto ma diciamo noi abbiamo avuto negli ultimi anni gli ultimi due censimenti ci dicono che praticamente c'è stato un incremento di questa superficie media del 30% cioè questo è un dato positivo cioè sono positivo da un lato nel senso sono diminuite le aziende e è rimasto pressoché costante la superficie ma vedete la distribuzione l'olivicoltura è un fenomeno che interessa soprattutto l'Italia centro-meridionale vedete le sette regioni cerchiate in rosso sono quelle che arrivano quasi al 90% della superficie e delle aziende ora la simulazione economica è stata fatta distinguendo un pochettino i livelli di meccanizzazione quindi dal manuale agevolato si intende quello che diceva il dottor Biocca diciamo le agevolatrici pneumatiche elettriche meccanizzata si intende quello che ha introdotto il collega Toscano per quanto riguarda gli scuotitori macchine eccetera meccanizzata avanzata intendiamo proprio l'ultima che ha fatto vedere e che è una meccanizzazione applicata soprattutto agli impianti intensivi solo lì si può applicare quindi si tratta di macchine scavallatrici diciamo semoventi scavallatrici torno un attimo indietro un'indagine ISMEA ci dice che praticamente attualmente siamo intorno al 20% il 20% di un campione utilizzava la raccolta manuale gran parte siamo intorno all'agevolata cioè il 60% delle aziende sembra utilizzare questo tipo di meccanizzazione solo il 20% quella meccanizzata questi fattori che influiscono sulla raccolta sono già in gran parte stati menzionati io comunque metto al primo posto il livello di meccanizzazione perché aumentando il livello di meccanizzazione noi otteniamo diciamo quel scarto di produttività che ci permette poi di contenere i costi in modo efficace oltre agli altri ovviamente come diceva il collega se un impianto produce poco mediamente sotto alle 10-12 kg di olive a pianta sicuramente la meccanizzazione diventa meno efficiente ma se arriviamo a livelli superiori allora si fa vedere diciamo l'efficienza dell'applicazione di un livello maggiore di meccanizzazione ora sempre da un'indagine ISME ebbero fuori questo dato interessante della gestione delle aziende che sono aziende oliviriche condotte per il 90% da conduzione familiare cioè praticamente viene utilizzata mano d'opera familiare per il 33% solo familiare per il resto il 60% è familiare mista diciamo anche al ricorso di salariati oppure al ricorso di conto terzi e questo è un dato molto interessante allora entriamo in merito a fare degli step per arrivare diciamo alla determinazione il più possibile un po' coerente del costo di produzione e il costo di raccolta diciamo qui io riporto le tariffe orarie della mano d'opera agricola vigenti dal 2014 vedete in blu c'è il livello delle tariffe in funzione delle qualifiche degli operai comprensive sono tariffe lorde comprensive degli oneri previdenziali assistenziali versati dal datore di lavoro in arancione invece ho voluto portare la tariffa base cioè quella escluso gli oneri previdenziali perché ritengo che possa essere un punto di riferimento per valutare la mano d'opera familiare perché non è che noi lavoriamo in famiglia e poi la remunerazione non la contiamo come in qualche caso succede e allora ritengo che questo è un valore leggermente inferiore del 30-36% della tariffa vigente ma che possa essere utile invece e congrua per la valutazione della mano d'opera familiare ovviamente qui ho ripartito le qualifiche in funzione un po' della meccanizzazione è ovvio che una meccanizzazione avanzata è spinta a bisogno di una specializzazione maggiore allora come procediamo questa valutazione è stata fatta ovviamente in modo analitico nel senso che noi della ricerca produciamo dei valori sulla base di algoritmi di formule matematiche per ovviamente suffragate da esperienze pratiche allora il costo orario delle macchine viene determinato in base analitica distinguendo costi fissi e costi variabili tra i costi fissi vedete c'è soprattutto la parte relativa al capitale cioè l'ammortamento del capitale investito le assicurazioni gli interessi e così via per quanto riguarda invece i costi magliabili sono quelli legati praticamente all'utilizzo della macchina se io utilizzo in modo ottimale e maggiore ogni anno una macchina automaticamente avrò dei costi variabili più bassi quindi sono legati alle riparazioni manutenzioni carburanti lubrificanti e via discorrendo ci sono dei fattori elementi fondamentali che noi utilizziamo per determinare poi il costo orario e li vedete a sinistra praticamente vedete gli elementi tecnici i parametri tecnici che consideriamo tra cui l'impiego anno della macchina la potenza nominale il consumo carburante eccetera dall'altra parte ci sono i valori quanto costa questa macchina qual è il valore di recupero alla fine del ciclo di vita di questa macchina il tasso di interesse e così via soprattutto i prezzi che noi abbiamo che l'azienda sostiene per i carburanti lubrificanti e anche per il set dei pneumatici che viene cambiato alla fine di questa cosa io non mi dilungo ma questo è il risultato analitico dei costi cioè voi vedete che dal basso verso l'altro l'alto è stata fatta una valutazione del costo orario relativo al livello di meccanizzazione partiamo dai pettini elettrici per scuotitori manuali via via saliamo fino a trattore munito di braccio idraulico come diceva il collega toscano alla scuotitrice intercettatrice che è quella dell'ombrello rovescio alla raccoglitrice in continuo che è quella sul vigneto superintensivo e vedete ovviamente il costo cresce il numeretto è riportato proprio sul costo di esercizio complessivo poi gli altri le altre histogrammi riguardano poi i costi fissi costi variabili e il costo di esercizio delle macchine e allora procediamo la mano d'opera vedete che l'intensità di utilizzo della mano d'opera è ovviamente inversamente proporzionale al livello di meccanizzazione vedete che facendo pari a 100 il raccolta manuale con le agevolatrici via via con le scoditrici si arriva fino alla semovente scavallatrice che il cui rapporto mano d'opera e macchina è 22-28% in relazione a una valutazione della mano d'opera salariata o mano d'opera di tipo familiare e allora entriamo un po' nel vivo un po' della produttività mi ricollego un po' i colleghi qui a sinistra c'è la produttività della sola macchina con un solo operatore per distinguerlo dal discorso di cantiere questi sono dati che abbiamo rilevato anche con il collega Biocca sui scuotitori e pettini e vedete che praticamente in funzione e questa è una simulazione chiaramente in funzione di una produzione a pianta in chilogrammi da 10 poniamo a 40 la produttività aumenta da 100 a 150 chilogrammi a ora dall'altra parte vedete c'è la raccolta meccanizzata cioè la scuotitrice semovente dotata di gancio per lo scuotitore e vedete che la produttività è 10 volte superiore e qui è diciamo l'ipotesi di cantieri che sono stati analizzati per arrivare alla parte finale alla valutazione del costo da sinistra raccolta manuale qui in effetti se andate a vedere la produttività per operatore che sarebbe in azzurro la raccolta manuale riporta 28 è un po' superiore a quello che si è detto precedentemente ma qui in effetti è stato valutato in alcuni casi particolari dove effettivamente gli operai erano veramente specializzati nella raccolta diciamo di queste olive quindi la produttività è abbastanza alta e abbiamo tenuto questa il cantiere invece è in arancione per cui considerando un cantiere minimo di 4 operatori vedete qual è il risultato per i primi 3 casi raccolta manuale elettrica pneumatica e poi scuotitrice che ha bisogno di 7 operatori minimo scuotitrice intercettatrice diminuisce l'esigenza degli operatori per arrivare a 2 operatori nella semovente scavallatrice e qui sono riportati un po' i valori di produttività a cantiere e a persona adesso non vorrei diciamo che la cosa si complichi ma in effetti qui è riportata la superficie che può essere raccolta in funzione dell'utilizzo di questa macchina a destra vedete periodo utile di raccolta è stato stimato in 45-60 giorni a partire da ottobre dicembre forse è meno questo è il dato un po' teorico in 45-60 giorni anche per un discorso di qualità noi dobbiamo raccogliere le olive le dobbiamo portare a frantoio allora è riportato nel grafico il limite 45-60 giorni se voi andate a vedere per ogni per ogni curva a sinistra vedete la superficie che si può raccogliere in questo periodo e vedete che insomma a seconda della meccanizzazione vedete in rosso la meccanizzazione spinta quella più avanzata vedete che c'è possibilità diciamo a 45 giorni di raccogliere 150 ettari ma questo è un dato teorico ovviamente poi sicuramente c'è un discorso anche climatico eccetera e allora dobbiamo tener conto che questi sono dati teorici estremi secondo me bisogna un pochettino tenerli in considerazione un po' in modo un po' più contenuto comunque a destra vedete il livello di potenziale di raccolta 811 per la manuale si raddoppia per la semi meccanizzata e via via fino ad arrivare a 142 189 per la meccanizzazione spinta quella avanzata diciamo e qui cominciamo ad entrare un po' in merito stima del costo di raccolta per ettaro sempre i stessi casi manuale via via manuale calcolato con l'utilizzo di manodopera salariale è la linea azzurra più alta e costante praticamente siamo sui 2000 euro ad ettaro se noi raccogliamo manualmente con manodopera che prendiamo come salariato diventano 1500 se invece utilizziamo la manodopera familiare ma voi vedete la cosa interessante è che con l'aumentare dell'intensità di utilizzo della macchina i costi per la meccanizzazione si abbassano ma è un'arma a doppio taglio se noi non abbiamo la superficie se noi non utilizziamo le macchine in modo giusto andando verso sinistra si vede il repentino aumento dei costi delle macchine quindi c'è bisogno di una superficie idonea la macchina deve essere sfruttata se non viene sfruttata i costi a sinistra tendono ad aumentare e allora l'incidenza del costo della raccolta voi vedete a sinistra c'è il costo in euro a chilogrammo di olio prodotto a te a destra c'è il costo in euro a chilogrammo di olive prodotte e vedete quindi c'è raccolta manuale raccolta con agevolatrice e via discorrendo quindi per ottenere un chilogrammo d'olio la raccolta incide per 2,5 euro se noi utilizziamo mano d'opera salariata scende a 2 euro se utilizziamo mano d'opera famiglia e qui c'è la proporzione fino ad arrivare alla semovente scavallatrice che ha un'incidenza al di sotto di 0,5 euro per chilogrammo di olio e allora per inquadrare la situazione a livello più generale cioè a livello di costi di produzione allora qui è riportato un po' l'incidenza che la potatura la raccolta e le altre lavorazioni che vengono effettuate ovviamente è una stima di larga massima è sulla base di alcune ipotesi però diciamo che la raccolta incide mediamente se io utilizzo mano d'opera familiare per il 37% 26% invece è per la potatura e il 20% per il trasporto e il pagamento del frantoio cioè la frangitura e allora tenendo presente questa ripartizione arriviamo un po' alla conclusione di questa valutazione è un po' complicata la cosa però diciamo che in verticale voi vedete il costo di produzione è un chilogrammo di olio tutte queste linee sono relative al costo di produzione di un chilogrammo di olio e sono riferite a quattro ipotesi diciamo produttive 5.000 chilogrammi al 15% di resa dell'olio 5.000 chilogrammi al 18% di resa dell'olio 6.500 chilogrammi al 15% e 6.500 a 18% questi valori io li ho messi semplicemente perché rispettano un pochettino le prescrizioni delle denominazioni di origine sono questi i valori che vengono considerati diciamo che la produzione può andare anche oltre e di parecchio di questo se arriviamo a 9.000 chilogrammi a ettaro le cose cambiano notevolmente però diciamo atteniamoci a un discorso medio e generale quindi voi vedete che con la raccolta manuale che incide per il 45-37% sul chilogrammo di olio prodotto il costo di produzione è su quasi quasi 6 dai 6 ai 4 euro scendiamo con diciamo l'impiego di una meccanizzazione sempre più spinta la raccolta agevolata siamo intorno a 4 euro e mezzo 3 euro per quanto riguarda il costo di produzione e l'incidenza della raccolta diciamo della raccolta è 32-26 e così via discorrendo arriveremo a un costo di produzione che varia intorno al di sotto dei 4-3 euro per l'utilizzo di una meccanizzazione spinta vedete a destra meccanizzazione avanzata il costo leggermente aumenta ma questo lo abbiamo capito perché in effetti il costo di impianto di un impianto specializzato è notevolmente superiore quindi lì incide soprattutto il costo di ammortamento dell'impianto e allora io concluderei un po' qui diciamo il mio intervento dicendo in effetti che se queste sono le situazioni c'è qualche punto di interrogativa a capire quando noi troviamo l'olio di oliva a 3 euro e mezzo sul mercato insomma cioè non è possibile arrivare a discorsi di questo genere a meno che quell'olio non è proprio extravergine di oria io le conclusioni le direi proprio questo nel senso che comunque il sistema olivico nazionale è caratterizzato da una grande frammentazione però ci sono le condizioni per spingere di più sulla meccanizzazione e la meccanizzazione è proprio l'unico mezzo a mio avviso che adesso è in grado di portare a una maggiore competitività e sostenibilità economica dell'olivicoltura e quindi su questo che noi dobbiamo puntare buongiorno a tutti tanto ringrazio il dottor Rizzotti per l'invito che ha dato ci ha dato l'opportunità di essere qui a raccontare un po' come associazione vi racconto leggermente i numeri della nostra associazione è un'associazione interregionale che opera nel contesto dell'area del nord-est quindi abbiamo visto prima l'olivicoltura effettivamente dove è presente quindi il Veneto il Trentino Alto Adige il Friuli Venezia Giulia sicuramente non sono tra le principali regioni produttrici di olive di olio però nel nostro piccolo in questo contesto abbiamo cercato di fare esperienze anche noi portando queste ricerche queste ottime ricerche fatte da questi ricercatori che ovviamente ringraziamo perché mettono a disposizione il loro pensiero il loro modo di portare tecnologia e poi noi cerchiamo tramite la nostra associazione di vedere quali sono le cose migliori da fare sul territorio parlare di olivicoltura nell'area nord-est ovviamente siamo di fronte a dei numeri ancora più piccoli rispetto a quelli illustrati dai colleghi che mi hanno preceduto numeri che addirittura assomano a meno di un ettaro medio per olivicoltore siamo intorno al 06 07 medio olivicoltore abbiamo però tanti olivicoltori perché abbiamo circa 6.000 6.500 olivicoltori e quindi a questi dobbiamo cercare di dare delle risposte risposte che abbiamo cercato di dare sia per quanto riguarda la potatura agevolata e quindi l'utilizzo della meccanizzazione sia poi per quanto riguarda la raccolta agevolata che parlerà il mio collega abbiamo visto i costi molto ingenti che abbiamo sia per quanto riguarda la raccolta ma anche per la potatura la potatura quindi incide abbiamo visto per circa il 26% nei costi di produzione quindi un aspetto da tenere molto in considerazione proprio per il fatto che questa è un'incidenza importante abbiamo detto la potatura cerchiamo quindi di fare tutta una serie di incontri volti a rendere gli olivicoltori sempre più professionali gli olivicoltori delle nostre zone sicuramente non sono olivicoltori che traggono il maggior reddito dal sistema produttivo olivicolo sono probabilmente delle persone che hanno anche altri redditi magari dati da altre culture tipo vite tipo altre cose quindi questi olivicoltori devono in qualche modo essere formati e noi cerchiamo di farlo attraverso delle lezioni ecco le lezioni fatte in campo fatte in aula per dare tutti gli aspetti legati appunto alla potatura cosa abbiamo fatto abbiamo fatto due tipi di prove ecco utilizzando sia delle macchine montate su trattrici ne abbiamo viste moltissime prima illustrate sia poi delle prove fatte con agevolatori più diciamo meno professionali quindi pneumatici o elettrici ovviamente il contesto ambientale dove ci si trova di fronte è un contesto non particolarmente specializzato quindi gli olivetti insistono in zone marginali dove molto spesso ci sono terrazzamenti dove ci sono pendenze superiori ai 10-15 gradi e quindi con questo tipo di macchine difficilmente si arriva a entrare nell'oliveto pensate ad esempio all'area di produzione del lago di Garda un contesto dove abbiamo addirittura dallo zero diciamo sul livello del lago si arrivano addirittura ai 400-450 metri lì addirittura ci si arriva non contrattrici ma si arriva quasi solo a piedi quindi dobbiamo cercare di portare delle macchine che siano diciamo gestibili anche da un punto di vista logistico l'esperienza che abbiamo fatta l'abbiamo fatta con due tipi di macchine una portante dischi rotanti e l'altra barre falcianti in acciaio temperato ecco diciamo che queste macchine aiutano l'olivicoltore in un'olivicoltura ovviamente più specializzata con sesti di impianto regolari per in qualche modo eliminare quella parte di vegetazione eccedente ovviamente in questo contesto poi dobbiamo andare a rifinire a rifinire ovviamente con una parte anche eseguita manualmente quali sono gli aspetti positivi che abbiamo visto sicuramente sono macchine molto efficienti nella quantità di rami tagliati che riescono quindi a togliere senza difficoltà rami di diametro anche piuttosto elevate si arriva a 4-5 cm con quelle a barra mentre si arriva addirittura a 10 cm su quelle a disco però ovviamente hanno un assorbimento anche di potenza abbastanza limitata pensiamo circa a un 10-15 kilowatt in pressione idraulica senza contare ovviamente poi la trattrice però abbiamo visto che già con trattrici da 60-70 cavalli su alcune piccole macchine si riesce tranquillamente a montarle quindi l'utilizzo anche di trattrici poco ingombranti diventa essenziale per raggiungere quei contesti un po' particolari dove è praticamente poco possibile entrare fisicamente con questo tipo di macchine e quello che si nota ovviamente è la riduzione dei tempi dei costi ecco ne abbiamo parlato prima è stato molto interessante vedere anche questi costi perché da lì si riesce poi a capire effettivamente se in situazioni come le nostre dove l'olivicoltura è piuttosto marginale se c'è la possibilità di investire con queste macchine che ovviamente se non lavorano tot giornate tot numero di ore poco si ammortizzano perché hanno dei costi molto elevati quali sono invece gli aspetti negativi che abbiamo notato beh sicuramente la difficoltà di attuare dei tagli precisi e quindi anche tagliare dei rami piuttosto piccoli perché sfuggono diciamo nel taglio di queste macchine quindi la necessità di rifiniture così è necessario avere un operatore che vada a seguire poi la macchina in modo da andare quantomeno a eliminare quelle rame che si rompono durante le manovre o quelle che rimangono indietro perché ovviamente in questi contesti difficilmente si riesce a completare tutta la pianta nel periodo di tre anni poi possono presentarsi anche degli squilibri vegetativi ecco abbiamo notato questo che se continuiamo a utilizzare semplicemente queste macchine poi le piante entrano in uno squilibrio chioma radice per cui è sempre bene tenere in considerazione anche questi fattori poi cosa abbiamo notato abbiamo notato che in molti casi ci sono presenze più importanti di sia funghi che batteri tipo il cicloconio perché abbiamo un minore areggiamento all'interno della chioma o la presenza di rogna dell'olivo perché i tagli sono un po' grossolani e quindi la pianta ci mette di più a cicatrizzare e quindi questo aspetto è da tenere molto in considerazione poi ovviamente con pendenze superiore ai 15-20% non è possibile utilizzare questo tipo di barre quindi di votatura difficoltà nella conduzione del tracici con olivi a differenti aperture perché ovviamente abbiamo delle situazioni in contesti dove le piante si presentano a file e quindi con degli allevamenti tipo monocono ma nelle situazioni in cui abbiamo un oliveto allevato a vaso a vaso policonico ecco questo tipo di macchine sono decisamente un po' più complesse nella loro gestione tutto questo lo si fa ovviamente per cosa? per andare poi a creare un contesto di raccolta agevolata perché la potatura è sì indispensabile per l'equilibrio della pianta e per regolare la produzione di per sé però in base poi al tipo di raccolta che andremo a fare dovremo anche poi utilizzare un certo tipo di potatura tipo se dobbiamo raccogliere con le macchine con le macchine agevolatrici che abbiamo visto prima ovviamente la potatura dovrà essere di un comportamento più compatto con una pianta che si sviluppa in modo assurgente quindi verso l'alto proprio perché queste vibrazioni devono arrivare il più possibile nella parte laterale della chioma se invece utilizziamo delle macchine per la raccolta agevolatrici tipo pettini sia ad aria che elettrici il tipo di potatura è un po' leggermente diversa perché dobbiamo creare un contesto dove queste macchine possano entrare e pettinare quindi raccogliere senza dover poi entrare effettivamente nella chioma quindi piante che escono leggermente di più nella parte diciamo laterale del nostro vaso e soprattutto portate leggermente più pendule quindi ecco questo cosa deve consentire poi ovviamente abbiamo provato ed è quella situazione ottimale nelle nostre realtà quella che è l'utilizzo delle forbici pneumatiche e le forbici elettriche allora cosa una rispetto l'altra sostanzialmente intanto agevano l'operatore perché l'operatore con questi strumenti si stanca molto meno abbiamo visto prima che queste macchine hanno anche un'incidenza poi sulla salute dell'operatore quindi con questo tipo di potatura ecco sicuramente l'operatore nelle sue otto ore di lavoro può essere agevolato rispetto a quella che è una forbice di tipo manuale che stanca molto di più l'operatore le forbici pneumatiche hanno una maggiore velocità di lavoro quindi riducono i tempi di potatura e quindi l'incidenza di costi facilita l'inserimento di aste telescopiche quindi anche qui se vogliamo abbassare e quindi la pianta per andare in una situazione di raccolta anche completamente da terra ecco basta regolare l'asta a una certa altezza più di lì non si deve andare quindi anche la potatura può essere tranquillamente eseguita da terra tagliano rami di grossi dimensioni e vi ricordo che l'olivo è una pianta che ha un legno piuttosto duro quindi essere agevolati anche nel taglio con questo tipo di forbici agevola appunto l'operatore quali sono gli aspetti negativi delle forbici pneumatiche che abbiamo la presenza di motocompressori e trattrici in campo quindi anche i consumi aumentano e quindi abbiamo poi dei costi leggermente più elevati abbiamo la presenza di tubi nell'aria compressa che si attorcigliano nei rami e rendono a volte diciamo un po' complicato lo spostarsi all'interno dell'oliveto e abbiamo sicuramente un'incidenza più elevata dei costi di acquisto e di manutenzione quindi diciamo che nelle nostre situazioni produttive sicuramente per quanto riguarda la potatura abbiamo trovato più benefici utilizzando questi ultimi sistemi quindi con forbici pneumatiche o forbici elettriche certo che sicuramente se ci aspettiamo che magari come si diceva prima la pianura podana un'indomani potrebbe essere la Puglia 2 per fare una battuta ecco magari in quei contesti lì dove le zone sono molto più penaggianti magari si potrebbe arrivare a meccanizzarla anche con questo tipo di potature più più importanti tanto voglio portare i saluti da parte del nostro presidente il Pino Pizzini e ringrazio anche di aversi chiamato qui a relazionare un ringraziamento anche all'Ersa del Friuli che è venuta a trovarci e che conduciamo anche delle prove assieme abbiamo fatto anche delle esperienze molto importanti con degli interreg concordo con i costi ecco i costi noi li abbiamo leggermente superiori ma non di molto perché abbiamo la stessa impostazione e la stessa metodologia di rilevamento un'altra cosa che è un po' culturale non è tanto buttata lì quella dell'olivicoltura nella pianura padana nei prossimi dieci anni si pensa che aumentino di due gradi nel 1405 un atto notarile effettuato a Minerbe che è proprio il centro della pianura padana qui nel veronese diceva che c'era stata una vendita di una casa coppata con ulivi se c'è questo ritorno di un altro tipo di temperature e di clima una climatologia che va e viene probabilmente troveremo l'olivicoltura non penso fra dieci anni ma probabilmente nei prossimi 50 anni possiamo trovarsela anche in pianura padana anche perché ci sono dei terreni che sono proprio adatti ad alcogliere la pianta dell'olivo meccanizzazione raccolta agevolata anche qui facciamo partire anche qui abbiamo fatto le nostre esperienze raccolta meccanica ecco con raccolta meccanica avendo delle macchine preposte vediamo se va avanti adesso non parte non va va bene parliamo abbiamo fatto delle prove naturalmente queste prove hanno avuto come per la potatura degli aspetti positivi ma anche degli aspetti negativi aspetti positivi per quello che ecco è partita con agevolatori abbiamo fatto delle prove con agevolatori pneumatici ed elettrici con batteria a spalla ed esterne le abbiamo già viste prima con macchine portanti su motrici sia frontali che posteriori aspetti positivi ecco buona capacità di lavoro per quelle che riguardano gli agevolatori anche con quelli che presentano una per quelle varietà che presentano delle drupe che hanno difficoltà allo stacco e qui ne abbiamo di varietà di varietà locali aspetti positivi abbiamo una facilità di funzionamento facile manovrabilità particolarmente in quelle in quelli attrezzi di ultima generazione le aste sono molto leggere anche se purtroppo danno delle vibrazioni notevoli dopo otto ore di lavoro si sente ecco dobbiamo quindi sospendere per alcuni minuti specialmente quelli che sono in fibra di carbonio e in alluminio gli aspetti positivi dopo hanno dei limitati investimenti per gli agevolatori e il costo può variare dalle 800 ai 2000 euro quindi con batterie esterne si hanno minori costi di acquisto però sono utilizzabili solo per la raccolta con le batterie portatili invece come abbiamo visto il collega Antonio si applicano anche per effettuare delle potature sono adatti dotati di regolazione dell'energia e pertanto si possono avere un maggiore forza scuotente ecco una maggiore forza di stacco e dare ai petini delle maggiori vibrazioni si attuano così una facilità di passaggi perché se noi dobbiamo ritornare con questi agevolatori che non danno dei sufficienti impulsi i tempi di raccolta si allungano pertanto si allungano i costi è necessario quindi che questi petini siano regolati correttamente e naturalmente le regolazioni variano sia nei momenti di raccolta se andiamo in ottobre oppure se facciamo una raccolta in novembre gli aspetti negativi ecco per gli aspetti negativi troviamo che gli agevolatori pneumatici perdono aria sia nel momento sia nei punti di impugnatura e siano dove si attaccano dove si attaccano alla trattrice ecco lì perdiamo della potenza e perdendo della potenza quindi non si esegue un lavoro correttamente dobbiamo fare più passaggi e naturalmente anche in questi casi si aumentano i costi gli agevolatori elettrici invece sono sensibili agli sbalzi termici di tensione pertanto si starano più facilmente pertanto noi abbiamo necessità nel momento in cui andiamo ad acquistarli di fare particolare attenzione a che tipologia andiamo ad acquistare e naturalmente non bisogna posizionarsi solo su quelli che costano meno perché quando si accosta un materiale con degli sconti notevoli alle volte andiamo a ricomprarceli l'anno dopo e pertanto dobbiamo spendere il doppio per ottenere alte efficienze e usabilità per tutta la giornata lavorativa le batterie degli agevatori elettrici devono essere sempre ben caricate ecco anche qui è un aspetto che abbiamo trovato che molte volte quando l'operatore va in campagna arriva alla mattina molte volte alla sera non ha avuto l'accortezza di mettere sotto carica il proprio utensile pertanto si deve perdere tempo alla mattina chi è deputato chi va a coordinare i lavori del cantiere deve rimanere in cantiere alla sera qualche minuto in più per accertarsi ecco tutto questo va a dare un'efficienza del lavoro la raccolta meccanica anche qui abbiamo effettuato circa una cinquantina di prove sia con testate con pinze che davano degli impulsi rotanti sia che davano degli impulsi solamente verticali abbiamo avuto delle difficoltà però degli aspetti positivi che sono stati quelli di diminuire notevolmente i costi il braccio il meccanico lavora con molta facilità e abbiamo utilizzato soprattutto dei bracci che non superassero i 6 o 7 quintali ho visto prima chi ha parlato avevano dei bracci meccanici particolarmente pesanti ecco su quelli lì non sarebbero sicuramente adatti per i nostri territori e naturalmente anche questo tipo di attività di raccolta la raccolta meccanica ha l'aspetto di come attuare dopo il sollevamento da terra delle olive effettuata sia con teli ma anche con ombrellini per i teli è giusto è corretto abbiamo visto anche per noi servono 6 o 7 persone per andare a stendere e raccogliere due operatori invece se si eseguono solo l'attività di posizionamento della pinza e la stenditura di un ombrellino anche questo qua meccanico che va a posizionarsi ecco però tutta l'attività dell'ombrellino lavora molto bene se noi abbiamo degli oliviti già formati perché altrimenti è una perdita di tempo ecco questo ombrellino perché non si stende bene non ha una chiusura sufficiente ed è più il tempo che si perde per la stenditura e per l'adattamento che non quella di stendere le reti sotto aspetti negativi pertanto difficoltà di manovrabilità in oliviti posti in banche in pendenze superiori all'8-10% ecco se con la potatura meccanica potevamo andare con la barra fino al 20-25% di dipendenza con questo tipo di scuotatori già a un 8-10% abbiamo delle difficoltà di manovrabilità date proprio il posizionamento della trattrice che si deve ancorare bene al terreno abbiamo delle difficoltà di stacco delle olive quando non sono in completa maturazione ecco pertanto è escluso fino alla fine di ottobre dobbiamo utilizzarle da novembre abbiamo anche fatto delle prove dando ad apportare dei prodotti sinici per effettuare un caldo di cicatrizazione anticipato funzionano molto bene funzionano bene anzi funzionano benissimo quelli lì c'è una difficoltà però che dobbiamo conoscere bene le previsioni stagionali ecco le previsioni del tempo perché effettuando una prova sul lago di Garda noi abbiamo una brezza alla mattina che si chiama il Lora se questo qua arriva con tre o quattro nodi di velocità superiore ce li butta tutti a terra ancora prima che noi arriviamo per tanto i prodotti ossinici vanno bene con condizioni e con temperature e assenza di velocità del vento abbiamo difficoltà di spiegamento motorizzato del berlino per i motivi che abbiamo detto prima e dopo troviamo una presenza di lesioni nella corteccia ecco dove la pinza va ad attaccarsi non so se questo qui è un aspetto varietale ecco perché non ho sentito che lo portavate negli aspetti negativi o se invece con altri tipi di varietà che magari hanno presenza di ritidomi ecco di cose diversi ecco su questo qua non le danno perché da noi le danno ed è e su questo entrano parecchi funghi specialmente cicloconio perché siamo andati ad effettuare dei controlli dopo 20 giorni e dopo 40 giorni o 50 giorni abbiamo prelevato del materiale vegetale l'abbiamo messo in agar abbiamo effettuato la cultura di funghi e successiva purificazione e ci abbiamo trovato ci abbiamo trovato presenza di cicloconio mentre con prelievi effettuati prima della raccolta c'era assenza pertanto si possono avere ecco si possono avere delle negatività per quello che riguarda particolarmente l'aspetto fitosanitario teli su terra e ombrellini ecco una fase poco considerata è che rappresenta i costi di raccolta sono proprio dati dallo stendimento dei teli ma già li aveva li aveva già individuati perché anche per vostro conto aveva visto prima che erano circa il 50% circa la metà pertanto si è attuata anche una prova di stendimento di un ombrellino a movimentazione manuale e questo qua funziona benissimo ecco stendere questi ombrellini non più adattandoli all'altratrice pertanto con pressioni con pressioni date dall'aria o anche pneumatiche effettuarlo manualmente si hanno dei risultati maggiori perché si adattano meglio si eseguono dopo delle operazioni di chiusura manuali e si riesce a intercettare tutte le olive che cadono e su questo qua abbiamo un recupero di circa il 30% dei tempi che non è poco il problema è andare a costruirli questi perché dobbiamo trovare degli artigiani che vadano proprio ad eseguire questo tipo di ombrellino adattarlo proprio alle specificità delle nostre aree è tutto quello che noi abbiamo fatto sulla raccolta pertanto sul nostro territorio vale ancora la raccolta agevolata ecco e su questa raccolta agevolata bisogna anche utilizzare degli operatori che abbiano una certa manualità perché se la raccolta rappresenta un 50% dei costi attuarla con operatori che non hanno una sufficiente capacità e conoscenza del lavoro si rischia di portare questi tempi dal 50% anche al 70% anche all'80% da considerare però che sulle nostre aree circa il 40% delle olive raccolte vengono attuate per l'autoconsumo entrano dentro sì in quella redditività aziendale però si può considerare che non concorrono a formare i costi veri e propri di un'azienda agricola abbiamo anche cercato di attuare un'attività di utilizzo cooperativo di queste macchine le abbiamo anche acquistate e utilizzate naturalmente sfruttando quelle che erano le agevolazioni le agevolazioni perché questi tipi di macchine hanno dei costi notevolmente sostenuti è difficile anche attuare una programmazione di questo tipo di macchine proprio perché abbiamo come ha detto il collega prima Antonio delle superfici che sono inferiori alla media dosale 1,30 1,40 noi le abbiamo ancora la metà conduzioni prevalentemente familiari vanno ad utilizzare le aree marginali di vigneti prevalentemente ecco pertanto un'attività che si trova ad avere ad avere una raccolta di una raccolta di prodotti della vite ecco e dobbiamo iniziare subito con dei cantieri di raccolta per le olive è difficile una programmazione di questi ecco perché sono dei lavori che vanno ad accavallarsi gli uni con gli altri per il momento rimane ancora più conveniente la raccolta agevolata sperando che nel prossimo trentennio o cinquantennio aumentiamo la superficie olivicola anche nella pianura palana c'è una particolarità però in alcune zone dove vent'anni fa non si faceva in alcune valli montane dove circa vent'anni fa non si faceva olivicoltura oggi sta diventando una cultura interessante non tanto perché dia un reddito elevato per queste aziende ma va ad utilizzare delle aree che starebbero per diventare dei boschi spontanei pertanto non regolamentati e che comunque darebbero un reddito alle aziende agricole seppure poco ma comunque lo darebbero grazie 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 a tutti